Bentornati su MyFootballJersey. Rivediamo questa maglia un po' controversa. A me piace tantissimo, c'è chi mi ha detto che non gli piace molto, non è la sua preferita. Questa comunque è la seconda maglia del Liverpool per la stagione in corso, in edizione Player. Grazie a tutti. Voi cosa ne pensate? Ditemi nei commenti se siete d'accordo o me sul fatto che è bellissima o meno. Il costo lo vedete qui sopra, ecco questo molto vantaggioso. Tra l'altro un nuovo fornitore, sono rimasto veramente sorpreso dalla qualità, velocità e dal piazzamento dei numeri. Qua sotto in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere questa e altre bellissime maglie che il sito prepara per voi. Ora, prima di lasciarvi la parte finale, iscrivetevi al canale. Io so che a voi non costa nulla, ma mi ci permette di mostrarvi tutti i giorni maglie come questa. Per oggi è tutto, alla prossima. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione Player.